Assessore Febbo, la dieta mediterranea, le eccellenze d'Abruzzo, come si incardinano nella programmazione del piano di sviluppo rurale? Ma si incardinano al 100% perché tutto ciò che oggi è cibo, tutto ciò che è alimentazione parte dall'agricoltura. Fare un'agricoltura di qualità, ma soprattutto credo cominciare a parlare alle nuove generazioni dei problemi che ci sono rispetto al cibo. Io non parlerei solo di dieta mediterranea, o meglio parlerei anche di dieta mediterranea, ma soprattutto di consumo del cibo. Credo che sia un argomento importantissimo, un argomento che tra l'altro è in questo momento su cui la comunità europea è particolarmente attenzionata. Tra l'altro si sta scrivendo la nuova PAC e su questo argomento ci sono interi capitoli che si potrebbero leggere. Oggi un convegno con esperti del settore, si affronteranno varie tematiche, anche quella degli OGM. Assolutamente sì, c'è questa posizione che noi manteniamo ferma di contrarietà agli OGM, non per un fatto ideologico. Lo riteniamo di essere contrario perché in Abruzzo non abbiamo la necessità di ricorrere agli OGM. L'Abruzzo è una regione che produce prodotti di altissima qualità, prodotti di eccellenza e su quello noi stiamo basando tutta la nostra produzione. Peraltro ci siamo lavorati per anni. Credo che l'uso di fitofarmaci in regione Abruzzo sia talmente di basso impatto, non solo, ma c'è un largo uso del biologico. Quindi francamente noi riteniamo di scongiurare questa opzione che ci viene offerta. Ricordo che per quanto mi riguarda non sono contrario ideologicamente. Ritengo che però l'agricoltura deve essere in mano agli agricoltori, non può essere in mano ai finanzieri che domani potrebbero decidere altro.